Giovedì 28 settembre 2017, buongiorno e benvenuti. Ben trovati all'appuntamento di oggi con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa per la lettura dei quotidiani, dei giornali che troverete oggi in edicola. Partiamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, con le prime quattro edizioni del centro. Iniziamo con l'edizione di Pescara, il titolo principale riguarda ancora l'omicidio Bevi l'acqua, perché ci sono novità che si susseguono ora dopo ora. Parla Mancinelli, i video miscaggiorano, delitto di Montesivano, l'amico del killer Fantauzzi respinge l'accusa di complicità. Poi vedete a centro pagina, appalti e mazzette, sette arresti in Abruzzo nell'ambito di un'operazione che è stata portata a termine nella mattinata di ieri. Poi vediamo le cronache di Pescara in questo caso, medici di base in rivolta, trattati come ragionieri, medici di base che chiedono meno burocrazia, meno carte anche per i pazienti, carte da riempire che creerebbero solo problemi e perdite di tempo. E poi penne, sequestrate due tonnellate di olio d'oliva. Poi il richiamo che riguarda lo sport, il calcio e il Pescara in particolare, perché Zeman pensa a Frank Canute, l'ex juventino dall'inizio, nella gara di sabato al Cabassi contro il Carpi. Vediamo altre notizie che riguardano la nostra regione. Sanitopoli del Turco cade, l'associazione resta l'induzione. Si parla del processo all'ex governatore della regione. Poi incendi, botta e risposta, Melilla Martina in Parlamento. Infine musica, Nicola Piovani oggi sarà in cattedra all'Aquila. Lasciamo la prima pagina di Pescara del centro, andiamo a vedere quella di Teramo. Il titolo di apertura riguarda questa scomparsa di questo giovane chef di 25 anni, come vedete dal titolo, stroncato da un male, il giovane Di Carlo era andato a curarsi negli Stati Uniti. Gli amici ha lottato fino all'ultimo. Vediamo le cronache da Teramo e provincia. Liste di attesa fino al 2019, la protesta degli anziani, sanità, luci e ombre a Teramo. Giulianova, più multe sui parcheggi per disabili. Tortoreto, il carabiniere indagato, non risponde al GIP. Lasciamo la prima pagina del centro di Teramo, andiamo a vedere quella di Chieti-Lanciano-Vasto. In 88 fanno causa a Del Vecchio. Chieti ricorso dei dipendenti dell'Università d'Annunzio contro i provvedimenti dell'ex direttore generale. E poi la città dall'addio a Valente, grande esempio per tutti. Sono svolti ieri i funerali dell'ex vice sindaco di Lanciano, Pino Valente. Vedete nella foto uno scatto della cerimonia funebre con l'arcivescovo Emidio Cipollone. E poi a Tessa, Casoniwell, tutta la città con i dipendenti. Poggio Fiorito, un altro assalto al Bancomat con esplosivo. Andiamo avanti per andare a vedere la pagina di L'Aquila-Vezzano sul Mona del centro. Ovviamente in questo caso il titolo principale, lo vedete, riguarda questa operazione portata a termine nella mattinata di ieri. Appalti e mazzette, sette arresti, così venivano spartiti i lavori in provincia. Bufera sul CAM lascia il manager Venturini. E poi l'Aquila, la medaglia dei giusti agli eroi di Caporciano. A Vezzano, centro Cosmos e scontro sulla viabilità. E poi invece a Sul Mona, vigili urbani, arrivano i rinforzi. Quindi lasciamo le prime quattro pagine del centro e vediamo invece la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Anche in questo caso il titolo di apertura riguarda l'operazione di ieri. Tangenti ed appalti, sette arresti e domiciliari. L'amministratore delegato del consorzio acquedottistico Marsicano Venturini ed il sindaco di Casa Canditella. Tra gli indagati, faccendieri e imprenditori, in una pendrive e in un'agenda trovate prove scottanti, come leggiamo qui dal messaggero. E poi l'appello bis per l'ex governatore del Turco. Cade l'associazione per delinquere. La condanna scende a tre anni e undici mesi. E poi vedete l'articolo di Spalla, l'approfondimento della prima pagina riguarda la sanità. E ci sono delle buone notizie per queste persone che devono convivere con problemi di salute, malattie rare e invalidanti. C'è infatti l'esenzione dai ticket. Questo è il titolo del pezzo di Spalla sulla prima pagina del messaggero. Andiamo avanti, vediamo altri titoli. Giovane stuprata in una clinica da un paziente. Chieti, la ragazza ricoverata per onoressia, attirata in un'altra camera. E' violentata. Vediamo in basso un titolo che riguarda Pescara. Vedete demolizioni più difficili in città. E poi in alto altri richiami anche di sport, ma non solo. Giulianova scoperto traffico di bottigliette d'acqua benedetta del santuario. E poi ancora Pescara. Giovane inglese massacrato. Ora spunta un secondo uomo. E poi invece il calcio. Serie B. L'uruguayano Baez mette il Carpi nel mirino. Andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano La Città. E poi andremo a vedere le pagine interne dei nostri quotidiani. Ma vedremo anche prima invece l'edicola nazionale. Nazionale Montoriese nel cartello delle mazzette. Sette arresti nella Marsica per appalti pubblici pilotati. Coinvolto il costruttore Emiliano Pompa. Abbiamo visto dunque le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Come vi dicevo possiamo andare a vedere l'edicola nazionale. Partendo come di consueto dal Corriere della Sera. Ecco la prima pagina del quotidiano milanese. Nasce il colosso dei cantieri navali. La guida all'Italia. Ecco il titolo di spalla. Patto Gentiloni-Macron. Diritto di veto francese. Dunque dopo tante polemiche è stato trovato l'accordo tra Italia e Francia. E poi la Catalogna. La Catalogna e il cambio alle finanze tedesche. Una bandiera della Catalogna durante una manifestazione a Barcellona per l'indipendenza. Ovviamente si parla di queste trattative difficili. Di questo referendum che Madrid non vuole. Con gli abitanti della regione della Catalogna. Poi andiamo a vedere il titolo principale di Repubblica. Vedete corruzione come la mafia. E il principio fissato per le misure preventive e i sequestri. Nella legge approvata dal Parlamento. Cantone critico. Bindi. Un regalo al Paese. Nessuna modifica il PD diviso. L'ombra di un patto. Questo è il titolo di apertura. E poi vedete un articolo che riguarda Manala Sharif. Le donne dell'Arabia Saudita. Ora sono più libere. Vedete una donna saudita. Proprio questa ragazza di 38 anni. Manala Sharif. Alla guida di una macchina. Mi arrestarono perché guidavo. Ho vinto io. Proseguiamo con la prima pagina del messaggero di Roma. La spunta l'Italia. La STX affin cantieri. Intesa al vertice di Lione. Al gruppo di Trieste. La maggioranza dei cantieri francesi. Per 12 anni. E poi schiaffo al codice. Il governo rinuncia alle modifiche promesse. La Camera approva il nuovo testo antimafia. E legge con fischi allargate ad altri reati. E garanzie calpestate. Poi un titolo che riguarda la questione immigrati. L'alto là dei sindaci. Prima dei profughi. Si aiutino gli italiani. La chiesa in pressing sullo Ius Soli. Picco di accoglienza in Nord Europa. Lasciamo la prima pagina del messaggero. Andiamo a vedere quella del tempo. La marcia su Rom. Dopo la sassariola a Campo Nomadi. Alle porte della capitale. Scoppia la violenta rivolta dei cittadini. Ma la comunità gitana scende in piazza. Con due cortei. In centro. Siamo alla stampa di Torino. Patto Italia-Francia. Per rilanciare l'Europa. Vedete il titolo in alto. Al vertice di Lione. Raggiunta l'intesa sui cantieri STX. A Roma il controllo. Parigi potrà esercitare però un diritto di veto. Macron a Gentiloni. Un trattato del Quirinale come quello con i tedeschi nel 1963. E poi il quotidiano libero. Prima ti sottraggono i soldi. Poi con calma ti processano il sequestro dei conti correnti. Per il PD. Il nuovo codice antimafia. È invotabile e insopportabile. Ma la camera diventa legge. Siamo al fatto quotidiano. Non si interroga Renzi. I carabinieri del Noe chiesero di sentirlo come testa. Il PM di Roma disse no. Questo è il titolo principale del fatto quotidiano. Un altro titolo a centro pagina. Concorsi truccati. Favori anche all'ex presidente della consulta. Si parla dell'inchiesta che riguarda i concorsi truccati. E poi il mattino di Napoli. Approvato il codice antimafia che estende sequestri e confischi dei beni anche ai sospettati di corruzione. Vedete questa immagine, questo disegno. La nuova giustizia. E poi il giornale. Tutti gli immigrati a noi. L'ultimo regalo dell'Unione Europea. Ricollocati 9.000 su 35.000. E ci fanno perdere 5 miliardi all'anno. Integrazione flop. Scrive il giornale. Due islamiche su tre. Lasciano la scuola. Poi siamo al quotidiano di Genova. Il secolo XIX. Timone a fincantieri della STX. Il vertice di Lione. Da Roma. Il controllo del gruppo. E poi un titolo che riguarda i trasporti. Ryanair crisi nera. Stop 18.000 voli. Mancano i piloti. La compagnia si sfila anche dal dossier Alitalia. Come leggiamo in questo richiamo in basso. Ryanair lascerà a terra 400.000 passeggeri fino a marzo 2018. Andiamo avanti. Il sole 24 ore. STX a fincantieri il 51%. L'1%. Sarà in prestito. Gentiloni il presidente del Consiglio dice. Verso un grande player mondiale. Macron vinciamo insieme. Il manifesto. Vedete. Il titolo principale che riguarda quello che vi stavo dicendo. Che stavamo leggendo. Il titolo che stavamo leggendo dal giornale. La stampa di qualche istante fa. Cattiva compagnia. Scrive il manifesto. Ryanair lascia a terra altre migliaia di passeggeri. Annuncia il taglio di 34 rotte internazionali. E rinuncia alla corsa per l'acquisto di Alitalia. I piloti rifiutano il bonus offerto dalla compagnia locosti irlandese. E chiedono un contratto sindacale. Vero. In alto. Anche come sul messaggero. Anche sul manifesto. Si parla di questa vittoria delle donne in Arabia Saudita. Perché d'ora in poi le donne potranno guidare le vetture. Siamo al quotidiano della conferenza episcopale italiana a venire. A braccia aperte. Il Papa dice. Accogliamo i fratelli migranti. Papa Francesco lancia la campagna di Caritas Internationalis su condividere il viaggio con chi emigra. E ringrazia chi se ne occupa. Poi il secolo d'Italia. Casa e lavoro ai migranti. Questo è il titolo che riguarda il quotidiano vicino alla destra. E poi la verità. Parola di un ex magistrato. I giudici come i professori dei concorsi truccati. Si spartiscono gli incarichi sistema scoperchiato del PM di Firenze. E lo stesso usato al CSM per le nomine. Solo che le toghe non finiranno mai nei guai a proteggerle. C'è un'apposita legge. E questo è il titolo principale della verità. L'ultimo giornale tra l'altro che vediamo in questa edicola nazionale. Dunque possiamo ritornare alle questioni e alle vicende di casa nostra. Tornando al centro, pagina 2, si parla di corruzione e mazzette. Così pilotano gli appalti. Sette arresti e cinque indagati. Questo è il titolo principale di pagina 2. Domiciliari anche il sindaco di Casa Canditella ed un dirigente del CAM nella Marsica. Tra i favori un lavoro alla fidanzata e l'acquisto dei biglietti della lotteria. E poi vedete in basso le intercettazioni. Basta che non ci costa una frega quello dell'Aquila a pranzo. Ammagnà. Questo tra l'altro lo vediamo. Un'intercettazione in dialetto. E poi vediamo anche quest'altra pagina. Sempre della stessa vicenda. Questa Venturini lascia il Consorzio dell'Acqua. L'Avvocato Milo, rapido accertamento della verità. Il ruolo di Ruggeri, l'uomo del Vaticano. E in una pen drive i lavori nel mirino. Criminalità economica dilagante. Questi particolari dell'inchiesta. Ma noi andiamo a vedere a questo punto il servizio che ha realizzato su questa vicenda la nostra redazione aquilana. L'operazione si chiama Master List e parla ancora una volta di appalti truccati. Sette arresti ai domiciliari ad eseguirli nelle province dell'Aquila, Taramocchieti e Pescara. La squadra mobile del capoluogo coordinata dal dirigente Tommaso Niglio su input della procura di Avezzano. I reati contestati sono corruzione, turbata libertà degli incanti, falso e rivelazione di segreto d'ufficio. A finire in manette, ai domiciliari, Antonio Ruggeri di Avezzano, che è stato anche a capo della residenza sanitaria Exompi dell'Aquila, ex dipendente del Vaticano, Sergio Giancaterino di Penne, imprenditore etile ed affidatario di molti appalti pubblici, Antonio Ranieri, aquilano, pubblico ufficiale con incarico di Ruppo nel comune di Campotosto e ancora Paolo Di Pietro, consigliere di maggioranza ed ex vice sindaco del comune di Canistro, Giuseppe Venturini di Tagliacozzo, amministratore della società CAM, Giuseppe D'Angelo, sindaco del comune di Casa Canditella nel Chietino ed infine Emiliano Pompa, imprenditore di Montori a Vomano. I PM titolari dell'inchiesta sono Roberto Savelli e Maurizio Maria Cerrato. I comuni passati al setaccio sono stati diversi. Nel caso di Canistro l'inchiesta parlerebbe anche di appalti per i lavori ai cimiteri, nei tempi in cui Di Pietro era assessore ai lavori pubblici con il sindaco Antonio Di Paolo. In un altro filone dell'inchiesta, nel milino della procura, anche appalti nei comuni di Ovindoli, Cappadocia e Cerchio. Stamattina intanto sono arrivate le dimissioni di Giuseppe Venturini, da amministratore delegato del CAM. Ad indescare e dare il nome all'inchiesta è stata, tra le altre cose, una lista di ditte che, per l'accusa, si dovevano spartire numerosi appalti, sia in provincia dell'Aquila che nel resto della regione, scritte in un'agenda, sequestrata nell'ambito della perquisizione, effettuata ai danni di Gian Caterino. Secondo gli investigatori, il meccanismo più usato era quello di rispondere alle gare con le ditte d'accordo con chi avrebbe dovuto vincere tra loro, stabilendo assieme il massimo ribasso. L'obiettivo era far partecipare tutto l'elenco delle ditte e far ruotare i vincitori. Dalle intercettazioni sarebbe emerso anche l'accordo relativo alla gara per il municipio di Canistro, appalto da 480 mila euro. 20 mila euro sarebbero andati alle ditte e agli amministratori, attraverso contributi e consulenze. L'appalto poi, però, non andò a buon fine. Le indagini hanno riguardato anche il comune di Campotosto, nell'Aquilano in particolar modo, l'appalto per la manutenzione dell'area di campeggio e della struttura del centro velico. Le aste pubbliche bandite dall'Unione dei Comuni delle Colline Tlatine, di cui il comune di Casa Canditella è capofila. A tal proposito, al centro dell'inchiesta, ci sono i lavori di riassetto territoriale dell'area a rischio idrogeologico della località Colle Grande del comune di San Martino sulla Marrucina e ancora a Capistrello la gara relativa ai lavori di manutenzione del depuratore eseguiti dal CAM. Siamo alle pagine della cronaca regionale, sempre dal centro Sanitopoli. L'appello del turco cade, l'associazione resta la condanna per induzione. La Corte di Perugia conferma l'impianto della Cassazione, assoluzione per il reato associativo e ricalcolo della pena per quattro episodi della vecchia concussione da quattro anni e due mesi a tre anni e undici mesi. La difesa dell'ex governatore dice caduto ennesimo pezzo della montagna di prove. Ora lavoriamo alla revisione del processo di condanna per la ex concussione. L'ex procuratore Trifuoggi non ho altro da aggiungere rispetto alla sentenza della Cassazione. Il passaggio di denaro c'è stato e questo conferma la correttezza del processo. In basso si parla di incendi, scontro in Parlamento tra Melilla, il parlamentare abruzzese e il ministro dell'Agricoltura Martina. Il ministro dice c'è massima attenzione. Il deputato di articolo 1 ribatte finora nessuna misura concreta. Andiamo avanti, siamo alla pagina dell'economia nazionale, però questo è un titolo importante. Si parla di Ryanair, la compagnia irlandese che taglia altri voli e molla all'Italia. La low cost farà volare 25 aeree in meno da novembre e 10 in meno da aprile 2018, coinvolti 400.000 utenti. Siamo alla pagina di Pescara, Asle, burocrazia alla protesta dei medici di base che dicono trattati da ragionieri di sanità nel mirino le procedure per gli incontinenti, scredita noi e vessa i pazienti cronici. La direzione generale dice la circolare della regione, ma stiamo cercando una soluzione. Allora, ieri abbiamo ascoltato alcuni dei medici di base che hanno manifestato davanti alla sede della direzione generale dell'Asle di Pescara. Possiamo andare a vedere il servizio. I medici di base scendono in piazza. Oggi c'è questa manifestazione dinanzi alla sede della direzione generale dell'Asle di Pescara. Dottor Grimaldi, quali sono i motivi di questa protesta? Ultimamente è arrivata una determina da parte di una dirigente della regione Abruzzo, dal quale questa determina ovviamente obbliga l'assistito a far riempire ulteriori modelli che il medico di famiglia non è tenuto a riempire. E quindi c'è questo via vai di assistiti che vanno in riabitazione, si vengono a dire no, deve tornare indietro, è andata all'urologo, eccetera. Noi siamo stanchi di queste vessazioni da parte dell'Asle. Siamo venuti più volte a parlare qui con la direzione ma non c'è stato motivo di arrivare a un accordo. Abbiamo stilato anche un verbale che il direttore sanitario non ha firmato fino ad oggi, ci ha sempre promesso che avrebbe rivisto, avrebbe rivisto. Siamo qui per favorire questi ademplimenti per i cittadini che hanno bisogno. Comporta di nuovo un aggravio burocratico per noi, soprattutto per i pazienti, in termini di file, di spostamenti e si tratta spesso volentieri di anziani invalidi. Quindi abbiamo pensato di fare questa protesta giustissima. Gli altri colleghi del Tre Provincie hanno ottenuto quello che noi oggi vogliamo ottenere e raggiungere dalla Direzione Generale Sanitaria dell'Als di Pescara, cioè far sì di ritornare a prima, cioè dare la possibilità di prorogare noi stessi la possibilità di accedere alla fornitura di pannoloni senza dover addirittura autocertificare e questo è previsto da questa determina regionale, modalità e frequenza di una propria incontinenza, il che è veramente assurdo. Parliamo ancora di sanità. Il tempo per indossare la divisa va pagato. Nuova sentenza in favore degli infermieri della ASL, ricorso proposto dalla Will per 265 dipendenti. Andiamo avanti, siamo sempre sulla cronaca di Pescara, nuovo pronto soccorso, apertura entro marzo, dunque restiamo in argomento. Dopo l'ultimo stop, il cantiere al piano terra dell'ospedale è ripartito spedito, il presidio di 2000 metri quadri avrà TAC, shock room e sale di osservazione breve. E poi la campagna solidale come testimonial, il comico Verni arriva in città, il camper della festa dei nonni, mille piazze. Aborto, obiettore l'80% dei ginecologi abruzzesi, oggi convegno della CGL sulla legge 194 e domani tre convegni sulle maculopatie nella nostra regione. Proseguiamo, siamo alla vicenda dell'omicidio Bevilacqua, testimoni e telecamere miscagionano, Nunzio Mancinelli, chiamato in causa dal killer di Antonio Bevilacqua, respinge l'accusa di aver collaborato al delitto. E poi in basso, folla commossa per salutare il capitano, Luciano Materazzo, l'imprenditore pescarese, morto all'età di 70 anni. Ancora Pescara, bimbo lasciato in stazione, giudici no all'adozione, la Cassazione accoglie il ricorso di una madre con disagi sociali ed economici, un solo episodio non può giustificare, dice la Cassazione, un intervento così grave e invasivo. E poi ancora Pescara, domani all'Aurum, la notte europea dei ricercatori, il via alle 17.30. E poi assistenza scolastica, tagli per 80 disabili, l'allarme della CIS, diminuite del 30%, le ore per l'integrazione dei ragazzi in situazione di handicap. E poi parliamo di scuole, l'alberghiero oggi in scena con Statale 17, in basso la Terno Mantonè, alla didacta Italia, Fiera a Firenze, sul mondo della scuola. Ancora Pescara, i facchini bloccano il magazzino SDA, 100 posti a rischio, la protesta davanti alla sede milanese del Corriere, ricadute anche sulle famiglie degli addetti abruzzesi. E poi, via Misticoni, sì alle auto, dopo 15 anni di ritardi, e riapre dunque, e apre, la strada che collegherà la parte di Porta Nuova con il Tribunale, Palazzo di Giustizia, un'importante arteria che servirà sicuramente a snellire il traffico nella zona sud di Pescara. Ieri il taglio del nastro. Possiamo andare a vedere il servizio che abbiamo realizzato in merito. Via Misticoni aspettava dal 2002 l'anno del PUE in cui è stato sottoscritto. L'abbiamo portato avanti con grande caparbietà. L'amministrazione comunale Alessandrini, insieme a noi, anche Porta Nuova 2000, che si è assunta per un obbligo solidale il completamento di questa strada per altri 125 mila euro. 650 sono fondi ex-pine recuperati dal comune tramite la regione Abruzzo per gli antellagamenti e ci ricordiamo tutti le foto di questa zona con macchine sommerse di acqua. Quindi nuove pompe, nuova fognatura e nuova strada. Oggi veramente siamo felici. Significa mettere in collegamento tutta la zona del Tribunale triplicando quelle che già sono via Marconi, via D'Annunzio e via Lento per ricollegarsi a via Lago di Campotos e per arrivare a quel benedetto ponte Flaiano. che ci consente di smaltire molto drastico nella città di Pescara. Taglio del nastro per via Misticoni. Consigliere Teodoro, lei era stato uno dei primi a credere in quest'opera, a credere in questo progetto. La scorsa legislatura ero presidente di questa circoscrizione unitamente all'intero consiglio. Ci siamo battuti affinché si potesse aprire e completare i lavori di questa arteria. Ci siamo battuti perché c'era un contenzioso aperto tra l'amministrazione comunale l'impresa che non aveva finito di realizzare tantissime opere tra cui la parte della rete fognante. Di questa cosa fumo chiamati come consiglio di quartiere anche a testimoniare in tribunale di questo. Ci siamo battuti fortemente e oggi sono contento e felice di poter vedere questa strada aperta perché tanti cittadini ci chiesero per anni che venisse aperta e migliorata la viabilità e oggi siamo arrivati a togliere un bosco, una fogna ce l'ha poi aperto, una palude e a fare veramente una strada a realizzare una viabilità che permette ai cittadini di muoversi con più serenità e libertà. Dalla cronaca di Pescara ci spostiamo a Montesilvano, degrado urbano, qui c'era profumo di liquirizia, ora solo sterco e strade rotte, la rabbia dei residenti sulle condizioni della centralissima via Roma a due passi dal municipio e da piazza Diaz e poi sussidi sociali integrato con 30 mila euro il fondo del PIS pronto intervento sociale aiuti a 240 famiglie e poi in basso incidente a spoltore scontro in moto il ragazzo ferito è fuori pericolo e poi Montesilvano ancora ufficio aperto due ore a settimana interrogazione di Dignazio del Partito Democratico sulla delegazione municipale Sportello nel Borgo e poi Sud Sudan il nuovo libro di padre Daniele Moschetti missionario con Boniano siamo alla pagina dell'area metropolitana di Pescara Luciani fermati il porto è solo un buco nell'acqua Francavilla la missione di dover attingere nuovi fondi per completare l'opera riaccende lo scontro De Sanctis del forum abruzzese dell'acqua dice risorse sottratte alle bonifiche e poi in basso ancora Francavilla proteste per i marciapiedi in dissesto e poi ancora nella cittadina adriatica non apre la porta e blocca due ladri giovanissimi provenienti dai campi rom denunciati dai carabinieri proseguiamo pagina di Penne Popoli e dell'Alta Val Pescara Marconi dieci ditte invitate per la scuola provvisoria siamo a Penne dove è stata avviata la gara d'appalto da 927 mila euro con un contributo regionale napoletano solleva perplessità dovevano essere invitate almeno 15 imprese e da Penne ci spostiamo a Pianella dove il Palasport fa passi avanti grazie al Masterplan e poi ancora Penne sequestro per 2270 chili d'olio visita ispettiva dei carabinieri forestali scoperte grandi quantità di extravergine non rintracciabili siamo alla pagina di Chieti del centro Ateneo e Veleni spiati sul posto di lavoro in 88 fanno causa all'ex direttore generale dell'Università del Vecchio ricorso dei dipendenti contro le telecamere messe dall'ex DG e per la sua lista degli estrapagati tecnici e amministrativi chiedono i danni vogliono un risarcimento di 10 mesi di stipendio e oggi per Cucullo primo giorno da direttore si insedia il manager scelto dal rettore Caputi e il CDA da Il Via Libera ai nuovi concorsi per docenti la città dall'addio a Valente un esempio siamo a Lanciano folle i funerali dell'ex vice sindaco con il cordoglio del sindaco Pupillo che dice un amico per sempre più tardi vedremo il servizio sull'ultimo saluto sull'addio a Pino Valente andiamo avanti siamo alla pagina di Chieti di Chieti provincia Oniwell la solidarietà scende in strada tessa familiari ex operai e sindaci al fianco dei dipendenti della fabbrica di turbocompressore in sciopero da 11 giorni possiamo andare a vedere il servizio sulla vertenza Oniwell l'azienda sta praticamente utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione non è la prima ma la terza lettera che scrive i lavoratori minacciandoli cercando in un certo modo di portare le persone ad avere paura di quello che noi stiamo facendo e noi adesso abbiamo deciso questa sera quando comincerà a fare freddo di scaldarci diciamo così bruciando tutte quelle 500 lettere che l'azienda ha inviato perché noi non indietreggeremo di un solo millimetro e perché noi non accettiamo nessun diktat e nessuna minaccia loro vogliono vorrebbero che noi rinunciassimo all'iniziativa di lotta per poi fare una finta discussione con la direzione aziendale loro vogliono vorrebbero che noi in un certo qual modo ci preoccupassimo di più dei clienti per noi i clienti della Oniwell sono assolutamente importanti non vogliamo fare del male a nessuno ma lo sciopero è l'unico strumento che oggi noi abbiamo a disposizione per rimettere in discussione questa scelta accelerata di chiudere lo stabilimento quindi non abbiamo paura il senso di responsabilità è forte in noi e risponderemo colpo dopo colpo alle provocazioni dell'azienda il tavolo del 2 ottobre si farà? non abbiamo ancora nessuna conferma nel senso che l'azienda sostiene che potrà esserci un incontro solo qualora noi rinunciassimo allo sciopero noi non rinunceremo allo sciopero fino a che non ci sarà un accordo scritto che preveda un piano industriale di rilancio del sito produttivo quindi non siamo ancora in grado di dire se il 2 andremo oppure no ad incontrare l'azienda presso il ministero queste le parole del segretario della FIOM CGL Davide Labrozzi prima di fermarci per qualche attimo l'ultimo titolo che riguarda Atessa Borrelli sui cinghiali bilancio lusinghiero uccisi 1700 capi fino al 15 settembre sindaco e polizia provinciale bene il piano di controllo allora possiamo andare in pausa per qualche istante vedere anche le previsioni del tempo poi come sempre torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6 Nuovo in studio seconda parte di Mattino 6 siamo alla pagina dell'Aquila del centro il titolo in primo piano riguarda la crisi dello sport aquilano l'Aquila Calcio Rugby lo sport in città in ginocchio la società Rosso Blu in bilico fra vecchi e nuovi soci Ranucci paga intanto gli stipendi ai giocatori dell'Aquila Calcio il club nero verde grazie alla polisportiva domenica potrà esordire nel campionato di Serie A di rugby e poi un commovente incontro dopo 75 anni Celano Antonio e Dulderico erano compagni di scuola poi sono immigrati e non si sono visti più in basso andiamo a Magliano dei Marsi perché una marsicana sarà a capo della navapantelleria si tratta del tenente di Vascello Valeria Maurizzi e poi Lago di Scanno il livello si abbassa c'è allarme tra gli studiosi l'acqua è scesa di 4 metri il geologo dice potrebbe dipendere dal sisma siamo alla pagina di Teramo del centro isola giovane chef di 25 anni muore stroncato da una malattia Fabio Di Carlo era andato a curarsi in America oggi l'ultimo saluto nella frazione di Trignano il ricordo degli amici ha lottato fino all'ultimo il suo sorriso non lo dimenticheremo mai Al Badriatica il sindaco dice no all'arrivo dei migranti Tortoreto il carabiniere indagato non risponde al giudice andiamo in basso isola del Gran Sasso rientra la salma dell'imprenditore Mario Fardellini ucciso a Panama siamo arrivati alle pagine dello sport dobbiamo andare a vedere dunque le pagine interne invece dell'inserto Abruzzo del messaggero e poi del quotidiano la città prima di parlare nell'ultima parte di sport siamo a pagina 2 dell'inserto Abruzzo del messaggero il ritorno delle mazzette tangenti per gli appalti scattano sette arresti trovato il libro mastro abbiamo visto prima il servizio poi in basso Sanitopoli del turco assolto dall'associazione per delinquere la pena scende a 3 anni e 11 mesi l'ex governatore 10 ha avuto ragione nel credere nella magistratura andiamo avanti siamo alla pagina le pagine di Pescara giro di vite sulle demolizioni facili questo è il titolo di apertura associazioni storici urbanisti chiedono una commissione per vigilare sul rispetto del vincolo faticosamente conquistato la denuncia nel summit di martedì dopo i casi eclatanti del passato rischiano le case settecentesche dei sette dolori e poi la strada più attesa da ieri percorribile via Misticoni abbiamo visto il taglio del nastro e il servizio con le interviste al vice sindaco di Pescara Antonio Blasioli e al consigliere comunale Pier Nicola Teodoro e poi SDA la sede pescarese paralizzata dallo sciopero in corso a Milano proseguiamo inglese massacrato il mistero del collega spunta un secondo uomo nella storia dell'ingegnere straniero trovato in fin di vita sul lungomare e l'amico che era con lui erano arrivati insieme a Pescara per lavoro e insieme hanno trascorso la prima parte della serata del 21 scorso e poi l'omicidio bevi l'acqua il PM pronto ad ascoltare le accuse di Fantauzzi siamo alla pagina di Pescara metropolitana guerra dei cinema le mosse The Space sale rinnovate promozioni Montesilvano si attrezza per contrastare il pala universo di Silvi e poi donare non buttare patto antispreco tra banco alimentare e imprese food a centro pagina scenari europei il festival ha fatto centro e poi i concerti al via classica grandi solisti e jazz che musica a Pescara infine la cronaca olio taroccato a penne mega sequestro di falso dop infine scuola giardini blitz a penne il cantiere apre a sorpresa siamo alla pagina dell'Aquila Palazzo Carli è pericolante chiuse le strade nei paraggi provvedimento necessario alla luce delle condizioni in cui versa l'immobile e poi la politica opposizione a muso duro contro il sindaco Biondi e poi i processi del post terremoto via Luigi Sturzo altri crolli senza colpevoli in basso assenteismo scagionati due dipendenti dell'università proseguiamo con la pagina seguente sempre della cronaca dell'Aquila dal messaggero Sharper alla riconquista del centro questo è il titolo principale di pagina 45 domani la grande giornata dedicata a scienza e ricerca previsto il taglio del nastro del rinnovato Palazzo Camponeschi programma ricchissimo di eventi fino a notte inoltrata onde gravitazionali verso il Nobel collegamento con Nespoli andiamo avanti a caccia di indizi con i carabinieri del RIS l'arma presenta le nuove tecniche nelle indagini forensi criticità personale ASL la CGL ecco i numeri si parla di occupazione e poi lo studio invece risposta sismica locale ingegneri a confronto e poi alcuni eventi workshop di Piovani al conservatorio dell'Aquila Angela e il suo viaggio venerdì prossimo il notissimo giornalista presentirà il suo ultimo libro all'Aquila siamo alla pagina di Avezzano sul Mona basta supermercati sulla tiburtina il neoconsigliere comunale grillino Eligi Bacchetta De Angelis anche sullo sbarco in città per un investimento della Holding Toto l'esponente del Movimento 5 Stelle si mostra preoccupato per il volume di traffico che intaserebbe l'ingresso in città a nord e poi sul Mona riapre l'agenzia regionale del servizio beni culturali ferrovie la galleria di Capistrello finisce al museo di Arce e poi vediamo più in basso sul Mona anche l'unione dei comuni si spacca in due se ne vanno mentre a Magliano è stata investita la madre del primo cittadino pesca seroli orsi maltrattati scatta interrogazione la senatrice Paola Nunez chiede spiegazioni al ministro dell'ambiente e poi Valle Roveto mezza regione al capezzale dell'Iri andiamo ancora avanti pagina di Chieti del messaggero giovane stuprata in clinica e poi costretta a fuggire l'incubo denunciato a Villapini vittima una ragazza anoressica processo un italo-argentino era nella struttura ai domiciliari e poi la Corte dei Conti boccia il comune grave deficit i 5 stelle dicono così si rischia il dissesto l'amministrazione alzerà presto le tasse ai cittadini e poi università da oggi al lavoro il nuovo direttore generale dell'università d'annunzio si tratta di Giovanni Cucullo e poi invece vediamo questo titolo in basso a fondo pagina condanna definitiva a 6 anni spacciatore finisce in carcere siamo alla pagina di Lanciano Vastortona l'apertura ovviamente dedicata all'addio all'ex vice sindaco di Lanciano Pino Valente amato Lanciano nella cattedrale i funerali del vice sindaco messa ufficiata dal vescovo Cipollone ha lavorato con forza e passione folla e commozione presenti tanti sindaci e amministratori e poi il ricordo del sindaco Pupillo è una grave perdita per tutta la città davvero tantissima tutta Lanciano ieri ha partecipato all'ultimo saluto del vice sindaco Pino Valente noi possiamo andare a vedere il servizio un applauso al vice sindaco della città lanciano in lutto abbraccia il suo vice sindaco un lungo applauso accompagnato il feretro dalla camera ardente allestita nella casa di conversazione alla cattedrale della Madonna del Ponte sono gli amici il fratello Roberto a farsene carico tra le lacrime fino ai piedi dell'altare una chiesa aggrimita ha partecipato commossa al rito funebre ufficiato dall'arcivescovo Emilio Cipollone Pino non ha mostrato i segni del potere ha detto citando Don Tonino Bello ma ha lasciato il potere dei segni e voi che siete qui così in tanti lo dimostrate il gonfalone di Lanciano li stato a lutto per la prematura scomparsa di Pino Valente 47 anni vice sindaco e assessore a bilancio e lavori pubblici cuore e mente al servizio dell'agente ha ricordato ancora il vescovo con una grande passione per la sua città lo dico lo faccio chissà se Pino sapeva che il suo slogan era già nelle sacre scritture dice ancora il vescovo ricordando di averlo conosciuto nella campagna elettorale del 2011 alla funzione ha partecipato tutta l'amministrazione comunale esponenti di maggioranza e minoranza e anche una ventina di sindaci della provincia dal primo cittadino di Chieti Umberto Di Primio ai sindaci di Guardia Grele e Ortona da Fossa Cesia a Treglio e Villa Santa Maria una sciarpa sulla bara e uno striscione per ricordare la sua fede rossonera e poi le testimonianze degli amici di Progetto Lanciano e ancora prima di Frentania Provincia l'associazione che lo fece conoscere attraverso le prime battaglie sui temi della sanità e dell'ambiente anche la regione Abruzzo con il consigliere delegato Camino D'Alessandro ha testimoniato la passione di Valente per la sua città e il territorio non è un progetto impossibile usava dire né verrà fuori un capolavoro infine il sindaco Mario Cupillo è stato un fratello leale e sincero come in politica non è facile incontrarne restiamo a Lanciano operazione cavallo rovesciato primi interrogatori e poi in basso ad Atessa avvertenza Aniwell 40 sindaci protestano e poi Bancomat assaltato con l'esplosivo appoggio fiorito filiale Tercas devastata in azione tre banditi incappucciati bottino da 15.000 euro infine siamo a Vasto uno spot per l'Abruzzo l'anteprima con Letta e poi al via le feste dedicate al santo patrono di Vasto siamo alla pagina di Teramo Fagnano il nuovo ospedale ormai un'esigenza assoluta gli spazi sono diventati inadeguati ad ospitare risonanze magnetiche e TAC e poi SOS Perruzzo e Teramo Ambiente i debiti sono in aumento e poi dalla fondazione Tercas osteoporosi donato un densimetro e poi il dramma di questo studente di 25 anni stroncato da una malattia a Trignano frazione di Isola del Gran Sasso infine l'innovazione a febbraio la connessione con la banda ultra larga coprirà tutto il territorio comunale di Teramo pagina di Giulianova Roseto Val Vibrata denunciato traffico di Acqua Benedetta vendute a Milano statuine di plastica riempite nel santuario della Madonna dello splendore informato padre Simone ancora Giulianova migrante impazzito blocca il traffico sulla statale poi vedete ancora questo titolo che riguarda sempre Giulianova fallimento del cirsu appello di Arboretti Tortoreto droga il carabiniere indagato si difende e poi a Martinsicuro in centro scatta la sosta a disco orario infine Roseto degli Abruzzi migranti la settimana della fratellanza siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo andare a vedere insieme prima di parlare di sport le pagine che riguardano il quotidiano la città siamo a pagina 3 del turco cade l'associazione a delinquere tre mesi di condanne in meno per l'ex governatore del centro sinistra confermate mazzette e concussione e poi interrogazione in parlamento sulla pineta dannunziana del senatore abruzzese di Forza Italia Antonio Razzi in basso protesta dei medici di base a Pescara contro la troppa burocrazia abbiamo visto prima il servizio e poi andiamo avanti mazzette marsicane nel cartello anche un costruttore terramano corruzione negli appalti tra i sette arrestati c'è anche il montoriese Emiliano Pompa andiamo avanti ricostruzione pratiche del sisma a rilento senza i tecnici il consorzio Isea ritira il personale prestato al genio civile dopo le polemiche sui conti di Abruzzo Engineering in basso ancora a Isola del Gran Sasso anche sul quotidiano la città si parla di questa tragedia della scomparsa di questo 25enne per un male incurabile oggi pomeriggio nella frazione di Trignano i funerali di Fabio Di Carlo sanità si parla e parla in questo caso il direttore generale dell'ASL di Teramo Roberto Fagnano che dice sarebbe un onore restare all'ASL la prossima settimana prevista la nomina del direttore generale l'avvocato Molisano torna in ballo per il rinnovo e poi questionari nelle sedi dell'Inail per valutare i servizi erogati agli utenti questi questionari saranno pronti dal prossimo 2 ottobre e poi in basso introdotta la valutazione dell'assistenza ospedaliera l'Abruzzo si adegua al modello degli indicatori già introdotto in Toscana ed Emilia Romagna al Mazzini di Teramo più facile la diagnosi dell'osteoporosi in ospedale la ASL ha installato un densitometro grazie al contributo della fondazione Tercas ieri tra l'altro avevamo visto un servizio della nostra Tania Bonnici Castelli proprio su questa notizia andiamo ancora avanti entro un anno fibra ottica ad un giga open fiber investirà 7 milioni di euro per raggiungere il 70% delle case teramane poi igiene urbana da domani derattizzazione sul territorio comunale di Teramo politica i dissidenti puntano la presidenza del consiglio stasera prevista una riunione con il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi per chiedere la testa del neo gattiano Milton di Sabatino e poi andiamo a vedere altre notizie che riguardano Teramo e Teramo provincia in questo caso siamo in Val Vibrata il carabiniere indagato parla davanti al GIP se le misure cautelari firmate dal giudice di cui una in carcere per l'inchiesta che vede coinvolto un militare e poi il caso Viviani unità a rischio per il centro sinistra con l'arrivo del commissario Pepe siamo ad Alba Adriatica in basso a Martinsicuro invece incontro in comune su pulizia dei fossi ponte sul tronto e cura del fiume andiamo a vedere la prossima pagina restiamo sempre in Val Vibrata prime misure per l'area di crisi della Vibrata e l'area complessa potrà contare su una dotazione finanziaria di circa 62 milioni di euro a supporto delle imprese e poi Alba Adriatica l'amministrazione di Alba dice no allo Sprar l'annuncio del sindaco Tonia Piccioni durante il consiglio comunale di ieri pomeriggio siamo alla pagina di Giulia Nova a rischio il lavoro dei dipendenti CIR sull'allarme del cittadino governante che porta il caso in consiglio comunale Franco Arboretti dice si deve fare tutto il possibile per garantire i livelli occupazionali salvando tutti i posti di lavoro e poi a Giulia Nova ancora l'ultimo saluto di Giulia Nova a Domenico D'Antonio e poi in basso annunziata il comitato chiede interventi certi contro il degrado e poi politica Mauro Vanni nuovo coordinatore dei Bersaniani siamo alla pagina di Roseto Pineto Ati e Silvi partiamo da Roseto due appuntamenti per parlare di emigrazione si terranno a Roseto nell'ambito delle giornate della fratellanza e poi ancora Roseto di Girolamo vuole tenere il Saffo in città incontro con la provincia per far fronte alla necessità della nuova sede e poi in basso il municipio si dinge di rosa per sostenere l'AIRC l'amministrazione ha aderito alla campagna internazionale contro il tumore al seno siamo in questo caso ancora a Roseto il sindaco ammette di averci ripensato non volevo introdurla ma ora è necessaria per far fronte alla situazione disastrosa dei conti ereditati si parla della tassa di soggiorno e poi l'asta del comune una sola offerta per il terreno delle baracche in basso il PD difende Aloisi dagli attacchi di Cassa Civica con il suo lavoro è riuscito ad ottenere dice il PD un contributo da 140 mila euro per i borghi proseguiamo siamo ad Atri caccia al cinghiale nella zona dei Calanchi la denuncia del WWF per la battuta avvenuta lo scorso 19 settembre è vietata dalle regole regionali e poi Cecilia Martella una stanza del reparto di pediatria intitolata alla vittima di Rigopiano in basso Atri Ferretti difende l'affidamento di Palazzo Cicada e contrattacca Basilico siamo poi a Pineto nessun responsabile per i rifiuti in fiamme chiesta l'archiviazione per il rogo che un anno fa ha causato danni per un milione di euro al consorzio di Pineto dell'AM e poi ancora Parco Marino pacchetto turistico sostenibile dedicato all'imprenditore romano Adriano in basso i problemi non si risolvono speculando sulla paura il sindaco di Pineto Robert Verrocchio risponde alle critiche su fossi e canali già iniziati dice gli interventi di pulizia siamo alla pagina della cultura al lavoro per salvare i dipinti al castello della Monica al via gli interventi contro il degrado delle pitture murali arriviamo alla pagina dello sport per parlare in questo caso del Teramo come sempre sulla città Caidi chiama il Monoris spero ci sia tanta gente il difensore dovrà fermare l'attacco della fermana Pordenone ha detto Caidi errori individuali ci vuole concentrazione e poi ancora sul Teramo parla il direttore sportivo Giorgio Repetto nessun litigio al mercato il Rinov vediamo a fine stagione dichiarazioni rilasciate alla nostra emittente a Jacopo Forcella nel corso della trasmissione Pro Teramo e siamo alle pagine dello sport del centro del messaggero per chiudere prima pagina di sport sul centro per parlare della notte di Champions League Juventus che batte l'Olimpiakos Pireo per 2 a 0 in basso Montella Milan in tempesta ma il club è con me questa sera impegno con il Rieca a San Siro e poi ancora Champions League Roma che passa in Azerbaijan Baku per 2 a 1 battendo il Karabag e poi altri titoli che in questo caso però riguardano lo sport di Cassa Nostra il Pescara perché sabato ci sarà la trasferta di Carpi con la novità Canute Zeman pensa infatti di schierare il 18enne senegalese in posizione di playmaker Zanetti ex Romejuve il primo tecnico a Pietrasanta dice Frank è fortissimo e poi Zeman la VAR non la giudico positivamente e a proposito di Carpi Pescara l'ex Brosco l'ex Biancazzurro Brosco dice il Delfino è da primi posti difensore del Carpi era alla Roma con Pettinari il suo ex Pouard dice Brosco non mi sorprende e poi i tifosi in trasferta al Cabassi sono disponibili 689 biglietti per i tifosi del Pescara che vorranno seguire la squadra in terra emiliana siamo al Teramo Caidi recita il Mea Culpa Teramo troppi errori e poi Serie D Fofana Out l'11 ottobre il derby di Coppa a Francavilla e poi eccellenza il tecnico di Bernardo Lascia San Salvo Assuero il Chieti perde anche Calderaro andiamo a vedere le pagine che riguardano invece il turno infrasettimanale di promozione gare che si sono giocate ieri Cologna Alba Montaurei 1 a 1 Fontanelle Luco 2 a 1 Morrodoro San Gregorio 0 a 0 Mutignano Notaresco 2 a 2 Tossicia Rosetana 1 a 1 Nuova Sant'Egidiese Celano 0 a 4 Pucetta Sant'Omero 3 a 1 Piano della Lente Mociano 0 a 0 Ponte Vomano Virtus Teramo 1 a 0 vediamo l'altro girone il girone B sul Mona che perde per 1 a 0 a Piazzano Bucchiani Cortona 2 a 2 Delfino Valdisangro 1 a 1 Castiglione Valfino Casalbordino 1 a 0 Passo Cordone Real Treciminiere 1 a 2 Fossa Cesia Fate Rangelini 2 a 1 Raiano Virtus Pratola 0 a 3 E poi ancora Sportland Celano Casolana 0 a 0 Infine Palombaro Villa 2015 2 a 2 Siamo alla pagina del basket Domenica il via del torneo di Serie A 2 La ricerta di Marulli Roberto Marulli dello Sharks Roseto Dobbiamo migliorare in difesa Dice il giocatore Rosetano Andiamo per chiudere a vedere le pagine dello sport del messaggero Si riparte ovviamente dal Pescara dalla Serie B Baez mette il Carpi nel mirino il 22enne Uruguayano a caccia del primo gol con il Pescara Posso fare meglio contento di come stanno andando le cose l'ex Fiorentina dice mi piace tanto giocare esterno nell'attacco a 3 e il mister Zeeman da grande importanza al mio ruolo e poi la formazione attacco torna Mancuso ma Pescara perde Capone e poi in basso si parla del Teramo oggi il test per la formazione anti-fermana fermana guidata dall'ex bianco-rosso Marco Sansovini e poi siamo al rugby vedete il titolo di spalla nero-verdi primo passo per unificare il movimento siamo alla seconda pagina dello sport del messaggero oscuri conti del club il gruppo interessato all'Aquila Calcio disattese le nostre richieste di chiarezza lettera inviata a Chiodi società e sindaco permane allo stallo domani riunione dei garanti e dunque per l'Aquila Calcio ci sono problemi si parla invece di basket nell'articolo di spalla Sharks D'Eustachio la meglio gioventù il play 19enne si racconta alla vigilia dell'inizio del campionato infine la mezza pagina del giovedì dedicata al Calcio Wisp sul messaggero i campioni impattano con il Real Teate Nautilus Ok Pescara Colli e Atletico Villanova Forza 6 il punto sui campionati di calcio della Wisp provinciale di Pescara noi siamo giunti al termine dell'appuntamento di oggi con Mattino 6 che otternerà domani puntuale alle 8 ringrazio Claudio Di Giacomo in regia ringrazio come sempre voi per averci seguito e vi rinnovo il prossimo appuntamento informativo della nostra rete alle 14 con la prima edizione del TG6 grazie e buon proseguimento di giornata a tutti grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti